Allora, fatemi vedere in lontananza, lo vedo, Vittorio Feltri, eccolo tra noi. Buonasera a tutti voi. Sonia ti chiede, Vittorio, cosa pensi di chi viene eletto a destra e poi passa a sinistra e viceversa? Beh, mi sembra un esempio veramente disdicevole, anzi sono esempi disdicevoli perché sono accaduti spesso. Indubbiamente la cosa fa schifo, ma credo che non si riuscirà mai a evitarla. Ma non basterebbe mettere una regolina che si dice chi è stato eletto da un'altra parte non può entrare con noi? Sì, questo non c'è dubbio, si potrebbe fare, ma chi lo fa sapendo che prima o poi magari lo farà anche lui? Aia, aia. Allora, Luigi, caro Feltri, caso Puglia, fa bene il Movimento 5 Stelle a rendere prioritaria la questione morale? Diciamo che Conte non poteva fare a meno di fare quello che ha fatto perché siamo di fronte a una situazione che è abbastanza imbarazzante e quindi io penso che a Conte faccia bene questo distacco perché le vicende del PD, della regione Puglia e anche di alcuni comuni è talmente grottesca che Conte doveva per forza allontanarsi, prendere le distanze per non essere coinvolto in uno scandalo in cui al momento lui, poveraccio, non c'entra. Ma secondo te avrà un beneficio elettorale Conte da questa cosa o semplicemente gli elettori si allontaneranno dalle urne? No, il rischio è che qualcuno sia lontaneranno dalle urne, indubbiamente c'è, però credo che qualcuno passerà dagli ex comunisti a 5 Stelle e questo mi sembra quasi inevitabile, non so tra i dire la quantità di quelli che faranno il salto della quaglia però sicuramente qualcuno... Però ci sarà, dici tu, ci sarà. Allora, Marco ti chiede, si avvicina la conferenza di pace in Svizzera che Putin ha definito una pagliacciata senza la Russia tu cosa ne pensi? Penso che per fare la pace la Russia sia indispensabile perché la guerra la sta facendo la Russia contro l'Ucraina e credo che sarebbe stata l'Ucraina la prima a fare un passo per ottenere la pace, almeno tentare invece non lo ha fatto e cosa vuoi che sentino tutti gli altri? Non possono che auspicare, ma non è auspicando che si ottiene un risultato quindi per l'amor di Dio, non facciamoci illusioni se la Russia non viene convocata, naturalmente bisogna anche che Putin accetti ma senza di lui credo che non si combini niente Chiarissimo Lucia ti chiede, Selvini riuscirà a fare costruire il ponte sullo stretto secondo lei? Mi auguro di no, perché io personalmente non lo vedo bene anche perché abbiamo una situazione nella sanità che è addirittura grottesca uno che vuole fare una radiografia deve aspettare due anni per farla col servizio pubblico e quindi mi sembra che i soldi si dovessero investiti in quel settore lì mentre invece il ponte potrebbe essere anche un'opera storica però noi dobbiamo anzitutto garantire il minimo indispensabile ai cittadini che oggi non c'è perché la situazione sanitaria è addirittura grottesca Grazie